Come vendere su Amazon. Amazon è uno dei più importanti negozi online, su questo non ci piove, ma non tutti sanno che può essere usato anche per vendere oggetti. Proprio così. Se hai bisogno di vendere un gadget tecnologico, un libro, un film, un gioco o qualsiasi altro oggetto conforme agli standard di Amazon, puoi aggiungerlo al catalogo del sito e venderlo a costi più che ragionevoli potendo contare su una visibilità piuttosto alta. Come si fa? Nulla di più semplice. Basta registrarsi sullo store, associare una carta di credito al proprio account, individuare l'oggetto da mettere in vendita, deve essere già presente sul sito, e procedere pubblicando l'inserzione. Per maggiori dettagli, ecco come vendere su Amazon passo dopo passo. Se vuoi imparare come vendere su Amazon, il primo passo che devi compiere è collegarti alla pagina principale del sito e creare un account gratuito. Se hai già seguito le mie guide su come acquistare su Amazon e come pagare su Amazon, già ne hai uno e quindi puoi saltare questo passaggio. Altrimenti, devi posizionare il puntatore del mouse sul pulsante Il mio account collocato in alto a destra, selezionare la voce Inizia qui dal menu che compare e compilare il modulo di iscrizione che ti viene proposto. Lo step successivo, anche questo non necessario se hai già acquistato su Amazon, è associare una carta di credito o ricaricabile all'account. Per farlo, clicca sul pulsante Il mio account di Amazon collocato sempre in alto a destra, recati nella sezione Pagamenti della pagina che si apre e fai clic sulla voce Aggiungi una carta di credito per inserire i dati della tua carta. Ora sei pronto per vendere su Amazon. Utilizza quindi la barra di ricerca dello store per trovare l'oggetto che vuoi vendere, la stessa che usi quando vuoi acquistare un oggetto, e clicca sul nome dell'elemento per visualizzarne la descrizione completa. Accertati che il bene corrisponda perfettamente a quello che vuoi mettere in vendita tu e clicca sul pulsante Vendi qui i tuoi articoli che si trova in fondo alla colonna di destra. Nella pagina che si apre, seleziona lo stato in cui si trova l'oggetto da vendere, nuovo, usato come nuovo, ecc., e dal menu a tendina Condizioni, inserisci il prezzo a cui vuoi commercializzarlo su Amazon, indica il tipo di spedizione che sei disposto ad usare, nazionale standard e obbligatorio, e clicca sul pulsante Continua per selezionare la carta di credito sulla quale ricevere il pagamento in caso di vendita. Come utente privato, puoi vendere un numero di 40 oggetti al mese pagando 0,99 euro più una commissione del 7,15%, variabile dal tipo di merce messa in vendita, e ad Amazon. Il pagamento lo dovrai fare solo in caso di effettiva vendita dell'oggetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti